Sì, allora, buongiorno, interlocute, delta Giulia, adesso appunto attesa, Whiskey. La delta Giulia si è pronta al decoro o ha bisogno di fare ancora i controlli? E dovesse togliere ancora i controlli, delta Giulia. Delta Giulia si andiamo calma di vento, se vuole, dopo avendo i controlli la posso pure autorizzare per S16. Va bene, ok va bene, anche la 1.6 effetto dei controlli e vi do subito la disponibilità di Delta Giulis. Delta Giulis, se richiami pronto. Richiamere pronto Delta Giulis. Indio India, Alfa, Gotsubbrau, ricorti rottingendo a Monte Rotondo, Guignacano 07. Now he's gonna show you a maneuver, it's called a 270 degrees. You go down to look for the speed, then you bank the aeroplane, 30 degrees to the right or to the left, and then you centralize, and instead of making a looping on your vertical, you do it in a slant wave. It's a very spectacular sensation. Ok, andiamo. Check around you, if there is anybody. Ok, no. Ok. Lo facciamo a destra, bene. Ok. Ah, che è l'intra? Non ci trovano mai. Si, a me. Ah, ciao. Noi vogliamo andare a quella parte, perché lo facciamo a domani. Però aspettiamo ancora a una volta che abbiamo chiesto. Ok, ora possiamo andare dall'altra parte e posizionarsi. Noi eravamo, giusto. No. Aspettore, Indialimababa, Sporlupo, 1.500 piedi. Indolimababa, contatti a nome di formazione, 1.2575. Indolimababa, Sopo. Risiamo, Bravo Ciarli, Indolimababa, contribu הח bande, 500 piedi. Buona giornata a Bravo Ciarli. Formatore dentro Giulietto, completato i controlli, pronto per il decollo Allineamento è autorizzato al decollo, dentro a Giulietto, dopo il decollo a destra Come accadere, fiacere a destra! Il VG è in più, non è finito, non frezvi, non è finito Urbano, buongiorno, stai a casa 2-1 Siamo che chiama Urbano, ora è incomprensibile Buongiorno, stai a casa 2-1, per noi farlo chiaro Siamo che chiama Urbano, buongiorno, stai a casa 2-1, come si riceve? Stai a casa 2-1, ora 3-5, avanti con messaggio Anche questa vada da forza, 4 a bordo, decollate ora da sotto di pappa diretti alla Dispo Di per un intervento primario, cerchiamo il target in 10 primi Per noi in rotta diretta, 700 piedi, 10-15, c'è ogni 7.000 Ci atteghiamo sempre, comunque, oltre le 12 mesi all'estate Per un intervento, stai a casa 2-1, stai a casa 2-1, mantenendo 700 piedi Utorizzati in rotta diretta, riporti l'Agostiniana Il 360 riporterà l'Agostiniana, allora Buongiorno, India, Papagotto, Sottravo, buongiorno Al punto 34, come se sono pronti a partire India, Papagotto, Sottravo, buongiorno Pista 3-4, allineamento attesa Allineamento attesa, punto 3-4, India, Papagotto Il Alfa Mike, Delta Giulio, si è volato 5-9 Continui, Passo Correse, 1-1,500 piedi 5-9, richiamerà sul Passo Correse, Delta Giulio Vittorio, India, Porto Bravo, Monti Rotondo, per rietro, capo India, Porto Bravo, riporti 7 bagni, 2-1,500 piedi Riporterà 7 bagni, 2-1, Porto Bravo Delta Giulio, mantenga rotta esterna al sottovento L'informe che il traffico è scesa 1-3-2, tra breve discolerà 5-3-4 Copiato il decollo Delta Giulio, rimane a esterna al circuito La Papagotto, Sottravo, per le sue informazioni Tampico, decollato da pista 16, ora in uscita Autorizzato al decollo 34, calma di vento Copiato il traffico, traffico in vista, autorizzato al decollo India, Sottravo E 번pressato al decollo 70, qual amarsi l'uventudio Billigiorno, pieza 34, finalmente a pesa Estabilmente adiesta, E 서독 Roannes tortilla,善界 intadata Mantra che l'uventudio E proprioi che i' d'uventudio Grazie a tutti.